La ragione dell'incontro non è tanto e solo FOA, noi vogliamo capire cosa ne sarà del centro-destra. Il Milan che non vince è quello che vuole, come dire, un miracolo. E so che è un dispiacere grande sia per Salvini che per Berlusconi, ma il tema dell'incontro è cosa ne sarà del centro-destra, i contenuti della manovra, dove va il governo, perché non è che adesso c'è bisogno di vedersi su FOA, semplicemente la consultazione dell'opposizione è un atto dovuto. Ma lo votate però voi? Ma insomma, essendo sanato il metodo diciamo che c'è un'apertura, adesso si rivedranno Berlusconi, Salvini e Lameloni e decideranno. Però non facciamolo diventare il tema dei temi, perché a noi preoccupa molto di più la manovra, la crescita, lo sviluppo, la cultura alt'impresa che FOA, che neanche sicuro. Devo andare in pubblicità o posso sentire migliore? Allora, pubblicità rimane migliore, anche perché oggi è San Gennaro, quindi auguri a Gennaro Migliore, il sangue signori miei si è sciolto, meno male il miracolo non direi mai a mancare, però il Cardinale Sepe ha avuto un piccolo mancamento per il caldo. Non dà tanti auguri a lui, eh. Auguri pure a Cardinale Sepe. Pubblicità.